Buongiorno, oggi siamo nella stazione della cremaliera Sassi-Superga e vi mostriamo il tram a cavalli numero 197, l'unico esemplare giunto fino ai giorni nostri. È stato costruito nel 1980 per una delle due società a capitale belga. La TM infatti non ha mai avuto tram a cavalli perché nasce nel 1907 dalla municipalizzazione della SAE-AI, terza concessionaria per il servizio tramviario e primo gestore dei tram elettrici. È stato utilizzato fino agli anni della seconda guerra mondiale come rimorchio di servizio. Sopravvissuto poi fino al 1977 è stato restaurato dalla TM cercando di riportarlo nelle condizioni originali sulla base di una scarsa documentazione d'epoca. Negli anni successivi è stato utilizzato su anelli in disuso della rete tramviaria come tram storico, poi è rimasto fermo in deposito fino al 2000 quando la ristrutturazione della stazione Sassi ha portato alla realizzazione di un piccolo museo aziendale dove il tram a cavalli numero 197 occupa il centro dell'esposizione e dove è tuttora ammirabile. E dal museo della stazione di Sassi vi salutiamo ricordandovi che sul nostro sito internet www.atts.to.it e sui nostri canali social sono presenti tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività.